Un caro saluto a tutti da questa domenica, qui c'è un bel sole e sembra quasi un sabato pomeriggio primaverile. Scusatemi se sto caricando pochissimi video su scherzi da prete, ma sono giornate un po' dense tra tanti impegni, tra scolastici, parrocchiali e un po' in giro nelle varie parrocchie a parlare e faccio veramente fatica a caricare qualche contenuto minimamente sensato o anche solo simpatico su scherzi da prete. Concedetemi due battute oggi sul Vangelo di questa domenica, di questa trentatresima domenica del tempo ordinario. Ci stiamo avviando verso la conclusione dell'anno liturgico e in questa trentatresima domenica ascoltiamo il brano dei talenti, brano conosciutissimo nella versione di Matteo. Concedetemi prima una battuta previa, una sorta di provocazione iniziale. Non è un po' troppo conosciuto questo testo, mi spiego un po' meglio. Io non ho in mente nessun campo scuola con gli adolescenti o con i bambini dove l'animatore di turno alla fine non ha tirato fuori il brano dei talenti. Perché? Perché si presta facilmente alla moralizzazione. Se fai il bravo avrai di ritorno tanto guadagno, se fai il cattivo vedrai che va a finire male. E c'è un po' il rischio di leggere così il brano dei talenti e di pensarlo come l'emblema del fai il bravo ragazzo e vedrai che se fai il bravo ti torneranno indietro tante cose. Sì, c'è anche questo nel testo di oggi, nel senso che una condotta cattiva, una condotta paurosa, una condotta giocandola sul minimo indispensabile come il terzo servo della parabola non porta nulla di buono. Però la scommessa in quelle due o tre battute che vorrei condividere è che c'è molto di più, c'è un sacco di più in questo testo e non è semplicemente il cerca di fare il bravo. Quando ci viene da semplificare un po' il Vangelo in questi termini e vabbè fai il bravo, cerca di ricordarti del Signore, non far del male agli altri, sia un po' generoso, ci deve subito venire il sospetto. Ricordiamoci che Gesù l'hanno crocifisso e l'hanno crocifisso perché quello che diceva era ritenuto inaccettabile e allora ogni tanto porci la domanda ma non è che sto un po' annaquando il Vangelo? Quando ci viene da fare qualche semplificazione è sempre una provocazione interessante e sì, penso che il Vangelo di questa domenica ci dica molto di più che il semplicemente fate i bravi e vedete che se farete i bravi le cose vanno bene. Partiamo da un'osservazione e da una prima cosa che potrebbe risultarci molto interessante e molto graffiante. Il testo dice che a uno dei servi, il padrone che parte, da cinque denari, a uno cinque talenti, ecco perché teniamo presente che lo chiamiamo il brano dei denari, dei talenti, insomma le due cose un po' a volte vengono usate tutte e due le accezioni. Qua si parla di talenti, cinque talenti a uno, tre talenti a uno, un talento a un altro a ciascuno secondo le sue capacità. Adesso non ho qui il testo, forse può essere che al secondo servo vengano dati due talenti, non lo ricordo bene, andate a controllare poi me lo scrivete nei commenti se sono tre o due. Comunque cinque, due o tre o uno, a ciascuno secondo la propria capacità. A ciascuno secondo la propria capacità. Cioè io varrei di meno di quello che ha ricevuto i cinque talenti. No, 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 non vale questa cosa qui. E questa è una battuta interessante che si potrebbe fare o che si potrebbe pensare. Ma come? Ma questo si mette a fare dei giudizi di merito. Cioè uno vale di più, uno vale di meno e io sono sempre quello che vale di meno. Ma è possibile quella roba qua? Perché a me è sempre di meno? E puoi andare avanti con i pensieri mille volte. Eh sì, il Signore fa le grazie ma mai a me. Eh sì, sì, il Signore è buono con tutti, misericordioso con tutto, però con me è un pochino di meno. Possono essere i pensieri che ci vengono nella nostra testa. Per capire un po' meno questo ragionamento dettato dall'invidia, si potrebbe anche andare alla fine del Vangelo. Alla fine del testo di oggi si dice a colui che ha un solo talento datelo a chi ha altri dieci talenti perché a chi ha sarà dato ma chi non ha sarà tolto anche quello che non ha. Tra l'altro nella versione di Matteo non si dice nessun commento. Nella versione invece di Luca gli altri servi dicono ma Signore ma ha già dieci talenti questo ma che senso ha dargli un altro talento. Vedete ancora una volta l'idea, eh vabbè ma cerchiamo di fare una cosa più equa. Ma è giusto questo Signore? Ma fa le cose giuste? Ma come fa a darne dieci a uno e a un altro soltanto uno? Ma perché si mette a fare giudizi per cui uno vale di più, uno vale di meno? Guardate che questa logica può tornare in quasi tutte le parabole. Boh, me ne butto lì alcuna. Ce l'avete presente, l'abbiamo letta qualche domenica fa, quella di quello che dà un denaro a tutti anche a quelli che hanno lavorato un'ora sola. Come si fa a ragionare così? Ma come si fa a lasciare 99 pecore sui monti e andare in cerca di quella perduta? Non si può fare quella roba qua, è ingiusto. Ma può questo padre fare una festa per il figlio minore che ha sperperato tutto e invece sembra che il figlio maggiore, che è bravo, che è un ragazzo carinissimo, che lavora, che fa tutto e invece lui niente? Capite che la logica è sempre quella. Ma come è possibile che a qualcuno cinque e a un talento? Ma perché a quello che ne ha di più viene aggiunto ancora di più? Ma Dio è giusto? Questa è una domanda che salta fuori dalle parabole. Vedete che c'è molto di più sul fate il bravi. Chi è contento però di questo atteggiamento di Dio che dà dieci talenti a uno che è già nell'abbondanza, che fa una festa per il figlio minore, che va a cercare la pecora perduta? Beh è ovvio che nell'episodio della pecora perduta l'unica contenta è proprio la pecora perduta. Nell'episodio del figlio al prodigo chi è contento? Il figlio prodigo. Nell'episodio di quei lavoratori che tutti ricevono un denaro indipendentemente da quanto hanno lavorato. Chi è contento? Gli ultimi arrivati. Nell'episodio dei dieci talenti chi è contento? Beh quello che ha ricevuto dieci talenti. Ma allora forse la domanda che viene è ma tu tu pensi di essere la pecora brava che è dentro nel recinto e Dio non si azzardia a non darmi attenzioni? Oppure tu sei la pecora perduta che il Signore va a cercare? Tu pensi di essere il figlio maggiore della parabola per cui io sono quello giusto e Dio è sempre buono con gli altri o tu sei il figlio minore che il Signore va a cercare? Tu pensi di essere il lavoratore della prima ora che si è meritato fino all'ultimo centesimo tutto quello che ha ricevuto o sei oggetto singolare della grazia di Dio che ti dà molto di più di quello che ti meriti? Tu pensi di essere servitore che ha ricevuto troppo poco o ti senti oggetto della misericordia dell'abbondanza del Signore? Questa è un'interessantissima parava un'interessantissima provocazione. Il Signore dà a ciascuno secondo le sue possibilità. A te quanto ha dato? Tu ti senti di recriminare oppure ti senti davvero oggetto della misericordia del Signore? Te la butto lì non c'è nessuno a cui il Signore dia meno di un altro. Il Signore ci dà veramente secondo la misura della sua abbondanza. Siamo noi che a volte possiamo diventare persone che si ritengono troppo brave, troppo giuste e la vita è stata ingiusta con me. No, siamo tutti oggetto dell'assoluta abbondanza di Dio e questa è una prima cosa importante da tenere presente nel testo di questa domenica. Tra l'altro concedetemi un'altra osservazione su questo. Scusatemi se cambio il braccio ma sto passeggiando, guardate qui di fuori dalla mia chiesa parrocchiale dove abito e ogni tanto devo cambiare braccio perché sto tenendo il telefonino con la mano. No, scusatemi se faccio anche questa battuta, ma un talento quant'è? Cioè, ok, ammettiamo che uno ha ricevuto cinque, uno ha ricevuto due o tre, uno ha ricevuto uno, ma quanto vale un talento? Sono andato a vedere sui libri. Oh, un talento è 35 chili d'argento e vale 6.000 denari. Ora, se un denaro è la paga di un lavoratore per un giorno, 6.000 denari è la paga di 6.000 giornate lavorative e 6.000 giornate lavorative sono veramente tante. Metti dentro un po' di giorni di feri, metti dentro un po' tutto, cos'è circa 15 anni di lavoro? Cioè, un talento è lo stipendio di un lavoratore onesto per 15 anni di lavoro. Adesso mettiamo un lavoratore che prenda uno stipendio medio-basso di 1.000 euro al mese per 10-12 anni, stiamo parlando di 150.000 euro. Cioè, anche questo servitore, anche quello che nella parabola sembra aver ricevuto di meno, non ha mica ricevuto poco. Perché guarda che c'è il problema, c'è il rischio di dire, ah quello là, quello là è il solito fortunato, guarda un po' quello, quello gli vanno tutte bene. Mannaggia, quello che è il più troglodita che c'è e a lui gli vanno tutte bene. Io invece, il rischio è che ti perdi quello che hai ricevuto tu, l'invidia, la difficoltà a riconoscere il bene che c'è nella mia vita, il guardarmi sempre attorno con uno sguardo un po' avvelenato. Rischia di farti dimenticare che, oh, hai ricevuto un talento, mica poco, ma cosa c'hai da recriminare? Ma non è uno che è stato lì a tenere a mano il Signore con te. Eppure ci sono mille meccanismi nella vita in cui rischiamo di non accorgerci del bene e dell'abbondanza che il Signore mette nel nostro tempo e nella nostra storia. Vado avanti ancora, faccio ancora due piccole osservazioni a questo testo. No, ci sono due cose che mi stupiscono poi di questo servo che prende il talento e va a sotterrarlo sottoterra. Dato per mettere 35 kg d'oro ha dovuto fare una buca enorme, no, sottoterra. Mi ricordo quando ero piccolo che sul catechismo c'era questo che ha messo in un fazzoletto una monetina. Beh, no, è un talento, 35 kg d'argento, cioè ci vuole un po' di sotterrarlo. Vabbè, comunque quando questo va poi dal padrone, dice una cosa. Io lo so che sei uno che semina, che miete dove non ha seminato e che raccoglie dove non ha sparso. Per questo ho avuto paura e sono andato a sotterrare il mio talento. Ma scusa, ma se sai che questo miete dove non ha seminato e vuole raccogliere dove non ha sparso, per la cosa più razionale sarebbe stato fare come gli altri, cioè andare ad investire questi talenti. No, lui va e per paura lo sotterra. Ma per paura casomai dovevi provarci, cioè dovevi fare un tentativo. Questo servo è razionale, capite il meccanismo? Cioè lui lo sa che il padrone sarà uno che va a chiedere dove non ha dato. Poi è tutto da vedere se il padrone è davvero così e non sembra che sia così. Con gli altri dà molto di più, dice mi sei stato fedele nel poco, ti darò di più. Non sembra che questo abbia un'idea giusta di questo padrone che sembra molto più generoso di quello che lui pensa. Però lui va bene, è convinto che è uno che dove non ha seminato raccoglie. Conseguenza vado a seminare perché lui vorrà raccogliere. No, lui va e nasconde il talento. È razionale, è completamente irrazionale questo atteggiamento. Gli altri sereni, senza paura ci provano. Lui no, ha paura e restituisce il talento. Io non ho fatto niente, anche se lo so che tu ti saresti arrabbiato quando ti ridò il talento. Non è razionale questo atteggiamento, non è conforme alle premesse del suo discorso. E guardate che a volte nella nostra vita ci possono essere mille ragionamenti che non funzionano, mille volte in cui non siamo all'altezza delle nostre premesse. Eh, il Signore è tanto buono con me, però io nella vita in realtà sono assolutamente arrabbiatissimo. No, lo so che il Signore è generoso. Sì, però io nella mia vita assolutamente no per nulla. E vedete voi tutte le volte in cui per fede facciamo dei ragionamenti. Sì, ma poi il nostro atteggiamento non è conforme agli atteggiamenti e ragionamenti che abbiano fatto. È razionale questo servo, cioè non è all'altezza delle premesse. Lui pensa delle cose, per quanto sbagliate, ma poi non le fa. Può esserci anche noi questo atteggiamento, no? Nella vita di un'irrazionalità di fondo. Penso delle cose su di me, su Dio, e però poi questa cosa non diventa pratica in me. Mi sembra un ragionamento abbastanza interessante, no? E l'ultima cosa che vorrei dirvi, questo servo ha paura, ha paura. E dice per paura sono andato a nascondere. Gli altri non hanno paura. Gli altri servi, guardate che la rischiano, eh. Adesso io non so se conoscete, uno ci investe cinque e guadagna cinque. Cento per cento di interesse. E per guadagnare il cento per cento un po' devi averla rischiata. Ma non hanno paura, ci provano. Hanno la lucidità di capire le occasioni nella vita. E invece la paura ti blocca. Non vedi più niente. Non sa più fare un passo questo. La paura veramente ti blocca. C'è un timore sano, quello che ci impedisce di fare troppe fesserie nella nostra vita. E poi c'è la paura che ti blocca, che ti fa essere irrazionale, che non ti fa più muovere. E basta, non porti più a casa nulla dalla vita. Quanto è rischiosa, no? La paura che ci blocca. E lì davvero la fede è quell'antidoto che ci guarisce dalla paura, quella cattiva, non quella che ti rende prudente, ma quella che ti blocca. Niente, sono alcune suggestioni, no? Su questo testo che possono esserci utili per farci una lettura. E ripeto, è un testo che ci piace un sacco perché potresti dire, sì, vabbè, fai il bravo e vedrai che le cose ti vanno bene. No, dai, ho provato a buttarvi lì tra o quattro cose per mostrare che invece è un brano molto molto bello, ma molto denso e molto ricco. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Sono stato lunghissimo, quasi un quarto d'ora, ma chi vuol venire a messa domani sappia che non sarò così lungo nell'omelia. Di solito cerco di non andare oltre i se ho sette minuti e cerco di attenermi. Vorrei sviluppare solo il primo dei pensieri che ho detto in questa condivisione. Auguro a tutti una buona domenica e se vi va, se pensate che questo commento possa servire a qualcuno, fatelo girare. Non è particolarmente geniale, ma ogni volta che si parla della parola di Dio stiamo contribuendo a farla conoscere meglio. Quindi se vi va di farlo girare, YouTube lo fa girare. Se voi mettete un mi piace o vi iscrivete al canale e l'algoritmo lo fa girare lui in prima persona. Ma potete farlo anche voi. Lo potete girare sui gruppi di catechisti. Ripeto, non perché sia particolarmente geniale, ma è un'occasione per sentire un messaggio sulla parola di Dio. Grazie ancora a tutti e auguro a tutti una buonissima domenica. Grazie, ciao!